Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione stanno vivendo un momento di grande felicità, celebrando la recente nascita della loro prima figlia, Allegra, e condividendo questa gioia con il pubblico di Verissimo. La coppia, conosciuta per la loro partecipazione a Uomini e Donne, ha presentato in tv la loro piccola di otto mesi, nata a febbraio 2024. Andrea, con grande emozione, ha raccontato l'esperienza del parto, descrivendo quel giorno come il più bello della sua vita. Ha elogiato la tranquillità di Allegra e ha parlato della sua nuova vita da papà, ammettendo che l'unico sacrificio è la mancanza di sonno. Durante l'intervista, la coppia ha rivelato un'altra grande notizia, la data delle nozze. Andrea e Arianna si sposeranno il 24 maggio del prossimo anno, con una cerimonia intima che si terrà in Toscana o in Umbria. Nonostante siano ancora indietro con i preparativi, stanno lavorando per realizzare un matrimonio semplice, ma speciale.